Allora, buongiorno Ivo May con gli appuntamenti del fine settimana. Che fare con il centro-sinistra, che fare nelle weekend? Vediamo un po' che cosa fare nelle weekend. Pagare l'altro di appuntamenti, loro non hanno bisogno certo di pubblicità, ma non possiamo neanche ignorare che questa sera a Roma ci sono gli U2 per le due date del loro tour The Joshua Tree in occasione del trentennale dell'uscita del famoso album. Appuntamento allo Stadio Olimpico alle 20.30, cancelli aperti dalle 16.30, ma sono sicuro che già sono tutti là calcati per entrare e accaparrarsi i meglio posti, come si dice a Roma. Proseguiamo verso sud, dove a Bari c'è la festa del turbante, chissà se ci va anche Emiliano. Dalle 15 alle 21 è animato dalla Sikh Seva Society, l'associazione che si occupa della promozione della religione Sikh. Allora potrete indossare turbanti, anche essere turbati forse da questa promozione, e imparare qualcosa su questa religione abbastanza sconosciuta in Italia. Tra l'altro ricordiamo che i Sikh sono quelli che fanno per la maggior parte il parmigiano reggiano nelle nostre aziende emiliane. Emilia Romagna. Esattamente. Risalendo verso la Liguria, oggi a Monterosso, che è una delle bellissime 5 terre, alle 18 si consegna la non edizione del premio giornalistico 5 terre. E indovinate chi l'ha vinto? Giuseppe Cruciani per la Zanzara. Questo, detto così, tra colleghi si fa. Di nuovo giù vi faccio fare zigzag sull'Italia, arrivare a Pozzuoli, dove stasera c'è il Pozzuoli Jazz Festival, particolarmente suggestivo perché tutti i concerti si svolgono in posti veramente da favola. La Solfatara di Pozzuoli, la Casina Van Vitelliana, il Rione Terra, le Terme di Nettuno, la Darsena. Appuntamento alle 21, costo 20 euro. Veniamo a domenica, ultimo giorno del Festival Eco Futuro, festival dedicato alle nuove tecnologie per un mondo migliore e più solidale, a Padova, al Fenice Green Energy Park. Ancora musica invece per la reggia di Capodimonte a Napoli, fu la residenza storica di Borbone, di Bonaparte e di Savoia anche. Dalle 19, concerti gratuiti al Belvedere, musiche di Rossini, Verdi, Strauss e Puccini. E anche questa settimana, non dimentichiamo per favore di fare un giro ad Amatrice, c'è Alt 3 Mura Festival, Alt 3, scritto Alt 3 Mura Festival, ma insomma avete capito, artisti di strada, giocolieri, gruppi musicali provenienti da tutte le regioni italiane che nell'area trentino della città animeranno quello che c'è da animare, purtroppo dopo quello che è successo il 24 agosto dello scorso anno, il terremoto. E ora il consueto ricordo, questa volta non risaliamo tanto indietro nel tempo perché il 15 luglio del 2006 il mondo della comunicazione cambiava perché nasceva Twitter creato dall'americano Jack Dorsey e la leggenda narra che Jack stava su un'altalena a mangiarsi dei tacos messicani quando ebbe l'intuizione di poter far comunicare un ristretto numero di persone attraverso gli SMS. E allora, 140 caratteri che hanno avuto e stanno avendo un grande futuro e buon weekend a tutti. Grazie, come dico sempre...